Amici oggi come promesso esploro due dei vostri mondi, ho scelto due persone a caso che appunto faranno parte di questo video e se anche voi volete partecipare a questi tipi di video che farò ogni tanto entrate nel server discord e appunto c'è un canale apposito in quale scrivo volete fare questa cosa, lo registro oggi e voi si lo facciamo, no non lo facciamo e lì ci si mette d'accordo quindi oggi andiamo a vedere i due mondi che sono stupendi cioè già me li immagino saranno pieni di roba in confronto al mio vi invito a lasciare un mi piace, un commento, condividete il video e se volete partecipare sapete come fare ma adesso godiamoci il video allora amici come vi avevo promesso sto esplorando a fatica con queste porte incredibilmente belle però guardate che bello il vostro mondo sto esplorando i vostri mondi il mondo di oggi è quello di Red Tony 05 gli do un saluto, ciao ciao che si è fermato a fissare la casa, ok questa da quanto pare è la casa con tanto di televisione incredibilmente bella che dovrei riprodurre tra l'altro con la scusa di esplorare i vostri mondi mi vengono in mente anche le idee per fare dei video o meglio per mettere delle cose nei miei video tra l'altro la skin del buon Red Tony mi sa tanto di proprio bella cattiva cioè mi sa tanto del classico palestrato questa credo sia la camera da letto abbastanza interessante e incredibile e qua vedo che si scelta oh figo nooo quanto è bello organizzata così quanto è bello organizzato così no lo voglio fare anch'io oh mio dio sei un genio cioè allora ditelo che voi siete dei geni poi guard- no bello così oh mio dio cioè poi io guardo i miei mondi e penso ok ora il mio mondo fa schifo in confronto al vostro guardate qua quanta roba il cuore del mare che dovrei prendere eh vedo che sei stato invaso anche tu dai cattivoni eh ok ok perfetto figo oh c'è pure il tridente ah però ce l'ho anch'io lasciate ogni speranza oh voi che entrate eh pensavi di prendermi alla sprovvista quindi questa era la casettina bella molto interessante ah c'è un'altra stanza oh no oddio sei un genio perché non ci ho mai pensato qua dietro ceste incredibilmente nascoste con un'armatura e niente però ho delle ceste molto fighe molto ben nascoste ecco oh ogni cosa che fate mi sorprende sempre cioè incredibile perché io queste cose non ci penso mai guardate che oh mio dio voglio voglio esplorare quella cosa lì guardate che bello la farm anche di cactus no non è di cactus quella farm l'ho già vista da qualche parte ma non so di cosa sia tra l'altro bellissima sta zona no voglio esplorare tutto voglio esplorare tutto allora da quel che ho capito è il lavoro di terraforming che non so nei dettagli cosa sia cosa si faccia cosa si deve fare so solo che di sicuro ma tipo di sicuro al 100 milioni 1% un numero appena inventato da me dovrebbero renderlo ufficiale più o meno credo sia la cosa più bella della storia quella è tipo allora sembra molto il mob spawner che sto facendo anch'io vedi la grappler sì ce l'hai messa tu perché mi sembra troppo messa bene per essere finta ok ok sto per entrare sto per entrare davvero ok aia mi sto facendo male mi sto facendo molto male tra l'altro mi ha dato anche la sua armatura non so perché è stato molto gentile ok vuoi rinchiudermi qua per sempre ok ho capito che magari vuoi rinchiudermi per sempre io lo sto seguendo lui è tipo la mia guida perché ovviamente conosce il suo mondo meglio di me e vediamo dove mi porta percorsi molto strani fatti con la cioè praticamente se io spacco un pezzo crolla tutto in teoria molto precario ma molto interessante come cosa ora voglio andare ad esplorare senza spaccarmi le gambe grazie questo coso qua che credo sia la cosa che al momento mi incuriosisca di più oltre al fatto di voler riempire la mappa anche se non ce la faremo mai ah sì è la farm di cactus boh ecco questa cosa la potrei fare ma cosa sono quei cosi là sopra è il vetro ah è del vetro ah sì ok è tipo la cosa più intelligente della storia sapevo che esisteva una farm di cactus ma non sapevo come farla e adesso mi hai dato un'idea quindi mettere il coso mettere l'acqua sabbia cactus vetro ho fatto figo rettani ti sei bloccato lì vieni fammi esplorare il tuo mondo voglio esplorare rettani le idee che ho per il mio mondo sono tipo proprio basilari basilari poi vabbè ovvio non sempre perché a volte mi escono delle cose fighe comunque più guardo la sua skin più mi sa di palestra ah sapete chi sembra johnny bravo è johnny bravo tu redtani sei chiaramente la skin di johnny bravo sta morendo di fame rontani sta morendo di fame il cibo mi serve del cibo come faccio a fargli capire che mi serve del cibo e se tipo io lo rubassi ho un po' paura però mi butto oh figo 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 ok quindi buttandoci spawniamo in una zona stupenda ok e credo che come faceva pollicino con le briciole non mi ricordo se era pollicino dobbiamo seguire le torce però mi ha attirato questo polossata polo al volo non funziona mai non so perché il polo al volo non funziona mai no ok ecco questa cosa l'ho sempre voluta la voglio anch'io sta cosa assolutamente come si fa scrivetemelo in caso nei commenti perché di sicuro lo sapete come si fa a fare la il getto d'acqua che ti fa salire cioè è troppo bello guardate anche il passaggio stupendo bravo rettoni ok quindi io direi di andare ad esplorare anche ste cose di qua vedi allora qui c'è tipo una minima molto carina farm di mucche esatto non ci si può entrare a meno che non mettiate un tappetino quindi farm di mucche e signori guardate qui cosa è riuscito a prendere il buon rettoni grazie qui devo prendermi i meriti alla mia farm di pesca non vorrei dire ma la mia farm di pesca sta fruttando bene ora tiriamo su il pesce perfetto e non ho idea di cosa ho preso lo saprà lui sicuramente nel dubbio oddio fortuna del mare trendist tuttività esche riparazione wow ma che caglio che miga super canna da pesca ci sta facendo pure notte qui c'è arco incanta oh ho trovato l'arco incantato bravo basso mi batto il 5 da solo gg ok complimenti e ti seguo ok mi sto scrivendo intanto lì in alto a sinistra magari non lo vedete perché c'è la mia facecam il mio faccione però mi sta dicendo di seguirlo proteggimi dai ragni johnny bravo perché ormai lui non è più redtoni è johnny bravo quindi appunto tra l'altro magari ve l'ho detto nella intro per farvi esplorare i mondi basta unirvi al server discord che appunto scriverò ogni tanto ehi volete che vi esplori il mondo e voi potete dirmi sì o assolutamente no ok piccone devastante fuori di testa ok gg per il mega piccone e ritorniamo alla casa qua affumicatore ah dovrei farmelo un affumicatore non posso entrare ah ok devo semplicemente aprire ok e si va a dormire figo non so se mi ha fatto vedere tutto non so cosa mi ha fatto vedere perché è la prima volta che entro in questo mondo però molto bello molto carino tra l'altro sta appunto facendo quel terraforming che ci diceva bravo gg johnny bravo gg johnny bravo gg johnny bravo gg johnny bravo ah si sale con le scalette infatti io stavo pensando ma come ci salirà mai là sopra con le scalette ovviamente giustamente mi sa che mi sta portando al mob spawner per farmi capire che anche a lui non funziona perché anche a me non funziona non lo so il fatto sta che da qua si vede tutto non vorrei cadere perché altrimenti mi metterei a piangere oddio stavo scivolando mamma mia che figuraccia che ci avrei fatto e vediamo cos'hai vediamo cos'hai esatto niente perché non funziona il mob spawner dannazione guardate quanto è triste guardate la sua è tristissimo cioè fuori di testa per quanto è triste però la cosa figa è che oh mio dio vedi tutto il mondo wow bello e tra l'altro quel pezzo di terra sembra tipo un bicchiere mezzo rotto ok non funziona esatto non funziona purtroppo non funge però bello dai mi piace bella casettina bel panorama siamo sopra le nuvole e io sinceramente vorrei buttarmi nell'acqua vai ti seguo vai sei un pazzo addio rettoni è stato un onore conoscerti no però lo voglio fare anch'io wow no non voglio venire wow è stato bellissimo lo voglio rifare per sempre wow un passaggio segreto molto bello vediamo dove ci porta credo sia quasi finito il suo mondo non ne ho la certezza non so quanto sia durato quindi in caso magari ne esploro un altro dei vostri comunque quante testate sto dando tipo wow cioè guardate le mega testate johnny bravo dove ci stai portando uh ah ho capito ho capito tra l'altro sembra tipo una trincea della guerra bellissimo ah guardate quanto si espande e siamo in miniera ah bello 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 cioè proprio miniera esplorata tipo al 200% figo bello mi piace dai ok carino 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 quindi da quel che mi dice il buon johnny bravo perché è johnny bravo il mondo è finito qui molto bello ora mi sa che vado ad esplorare un altro dei vostri credo a meno che ci sia qualcuno online non lo so ora lo scrivo sul server io ringrazio redtony aka johnny bravo e in caso ci vediamo nel mondo di uno di voi ok amici siamo sfonati nel secondo mondo per voi è passato un secondo per me sono passate tipo tre ore perché va bene non è andato a fare altro e questo è il nostro buon raffi db e sinceramente sono stra curioso di sapere cosa significa db sono tipo la persona più curiosa del mondo e oh mio dio quanto è figa sta cosa andiamo ad esplorare qui c'è una stessa di 64 test di ogni mob ok figata totale e salve ok allora abbiamo fatto un piccolo upgrade in modalità creativa così almeno possiamo esplorare al meglio già vedo già vedo un botto di cose qua ci sono robe stranissime poi anche lì c'è una casa non lo so ora ci farà vedere il nostro ombre il nostro buon raffi e c'è una mega s di credo stia per soldi perché non lo so è tutto particolare questa zona e sono molto curioso di esplorarla tra l'altro questa skin ce l'ho anch'io una simile e si su ps4 non mi sono fatto la skin ok devo rifarmi la skin allora esploriamo quella zona centro scambi sembra fi ok no che figata no dio lo voglio fare anch'io la cosa più bella della storia come ha fatto a fare una cosa del genere no non ci credo ok teleport base vai andiamo subito oddio mi sta no sono tornato no 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 aspetta ah voglio ritornarci ok uh uh che bello quanto è bello che quando entri nel mondo degli altri ti regalano sempre le cose allora teleport to enchanting room fighissimo dai voglio vederla subito oh salve stiamo per fare un duello 1v1 situation stai attento non c'ho paura non c'ho paura oh guarda quanti sono no che figata totale che figata totale oddio quanta roba c'ha mending sharpness non ci credo lo voglio fare cioè se io clicco tipo bain of antro no non bain of antro se io tipo clicco smite ho fatto un casino che succede ora siamo andati via da quella zona che era tipo una figata totale e ci esploriamo questa mega mega con la m maiuscola stalla non mi veniva in mente il nome stavo un po' cincischiando guardate quanto è fatta bene ma tra l'altro questi banner tipo lui ne ha un botto in giro per il mondo come si fanno a fare questi banner particolari cioè so come fare i banner ma non così particolari e comunque figata totale ecco vedete in confronto alla mia stalla è tipo un buco fa straschifo però la sua stupenda vediamo cosa c'ha scritto qua teleport to set poi lui c'ha tutto tipo un mondo bo strano per i teleport oh mi ha dato il banner oh mio dio sembra che mi abbia sentito figo 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 ora c'ho anche lo standardo lo metto ovunque lo metto ovunque che roba è questo strano fa vedere danger zone restricted area work in progress figata guarda che figata che figo mega work in progress grande mi piace bravo cioè io per costruire uso la schifo terra invece vedi gli esperti che utilizzano le cose giuste comunque tra l'altro in questo mondo non so se li sentite perché magari ho messo l'audio più basso è pieno di fulmini e saette tipo Zeus levati proprio e qua sempre con i banner palesemente ormai sono il suo marchio di fabbrica ci sono i cosi che col kart oh io entro nel kart te lo dico addio kart vai andiamo guarda che be no vabbè ma cioè quanto ci hai messo per fare sta cosa credo sia la cosa più bella del mondo e tipo non ci credo ah ok pensavo ti portasse direttamente al portale del land boh non so perché mi ero mi ero immaginato il portale del land fatto sta che esatto il kart scende poi ovviamente dovrà risalire non chiedetemi come ah che figata ah quindi uno va torna eh sì esatto non ci credo è la cosa più bella della storia queste le voglio rifare queste palesemente le rifaccio palesemente perché sono facili da fare no raffi mi sta abbandonando e qui c'è pure il lettuzzolo e vediamo facciamo un'esplorata veloce ok si conclude qua un magazzino ma decisamente una figata ogni volta che esplorerò i vostri mondi la frase ricorrente sarà ma perché a me queste idee non vengono no vabbè cosa sto cosa ho appena visto facciamo finta che io non abbia visto niente il metto è stato cambiato in sereno grande meno finiamo la pioggia sempre con queste s di cash money gang esatto ora non vorrei distruggere per entrare vorrei entrare da un'entrata giusta si può entrare permesso c'è un'entrata dobbiamo devo distruggere no dai non fatemelo distruggere ah c'è il teletrasport ah è la zona di prima ah è questa no vabbè e questa è la zona dove eravamo andati prima con l'enchanti non c'ha senso è troppo bello come ha fatto a settare una roba del genere no vabbè no vabbè no vabbè no virgola vabbè punto esclamativo punto esclamativo 1 no guarda che figata e invece nella mappa dell'esploratore vuota non si vede niente stupende da qui vedi tutto il mondo lì c'è il coso lì quello il coso dei teletrasporti che è una figata ma non ho ben capito come funge allora mi suggeriscono che per ora è finito qua cioè finito qua tra molte virgolette perché tipo è tantissima roba figata soprattutto questa è la cosa più bella della storia e anche il coso dei teletrasporti voglio capire come si fa perché è bellissimo bravi bravi ragazzi bravi mi siete piaciuti entrambi due mondi stupendi no lo sto precipitando quindi anche questo mondo è finito io ringrazio sia Raffi che il buon Johnny Bravo e direi che si può fare un salva ed esci tatticissimo quindi signore mi tolgo le cuffie perché il video è finito e onestamente onestamente mi avete dato delle idee stupende per dei video ora faccio un attimo qui di applicazione grazie ok dicevo mi avete dato delle idee stupende per dei video per delle cose molto bene molto bravi quindi se anche voi volete che vi esplori il mondo come ve l'ho detto già 56 volte entrate nel server discord e poi lì ci si mette d'accordo quindi io vi ringrazio per la visione vi do appuntamento domani alla solita ora per le 2.45 e con un nuovo video ciao ciao